Buongiorno a tutti e a tutte, oggi parleremo del Medio Oriente. Allora, in questo pezzo di mondo, diciamo, è stato per buona parte della sua storia fino alla Grande Guerra, compreso nell'Impero Ottomano. Questo Impero Ottomano, che era una forma di stato retto da un sultano, che è anche il califfo, quindi il capo dei credenti dell'Islam, ma che era una forma di stato multinazionale e multireligioso, cioè pagando la Dihimma, una tassa apposita, i non musulmani stavano assolutamente, ci sono stati sempre nell'Impero Ottomano, anzi, quando a fine 1400, inizio 1500, gli ebrei venivano espulsi dalla Spagna, dal Portogallo, si rifugiavano proprio nell'Impero Ottomano, un territorio considerato più tollerante, dove non avevano particolari limitazioni, appunto a parte il pagamento di una tassa. L'Impero Ottomano ha una grande potenza, gli Ottomani nel 1683 sono ancora sotto le mura di Vienna, poi inizia a decadere, per tante ragioni, perché non hanno l'illuminismo, non hanno la rivoluzione industriale, e questo li fa rimanere indietro dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista dell'organizzazione sociale, e poi iniziano a perdere pezzi. E questo ha un peso anche sulla storia dei Balcani, abbiamo visto le guerre jugoslave, perché sloveni, perché croati, cattolici, bosniacchi, musulmani e serbi, ortodossi, pur avendo una lingua molto simile, si scannano per motivi religiosi. Questo ha una radice in fondo nella struttura dell'Impero Ottomano. L'Impero Ottomano era basato sui mille, che erano le comunità religiose. Ogni comunità religiosa si interfacciava con il sultano in quanto tale, cioè quando doveva parlare i suoi sudditi cristiani, il sultano si rivolgeva alle diverse chiese cristiane, quando doveva parlare i suoi sudditi ebrei si rivolgeva al rabbino capo, cioè la tua comunità religiosa era in fondo una forma di interfaccia politico. Quando si diffonde la parola d'ordine dello Stato-Nazione, del facciamo la nazione, in buona parte dell'Impero Ottomano, il concetto, l'identità nazionale va a coincidere con l'identità religiosa. E' per questo che la nazione serba, che tra le prime a ribellarsi all'Impero Ottomano e riconquistare ancora nella prima metà dell'Ottocento la propria indipendenza, la nazione serba fa combaciare la propria identità nazionale con la chiesa ortodossa, cose che poi appunto si portano dietro ancora oggi e nelle sanguinosissime guerre jugoslave degli anni 90. Quindi nel corso dell'Ottocento perdono tutti i Balcani, che diventano stati indipendenti, e perdono il Nord Africa, che diventano colonie europee. L'ultima è la Libia nel 1911, ad essere conquistata dall'Italia. E tra il resto questa conquista italiana, che fa vedere tutta la debolezza dell'Impero Ottomano, spinge gli stati balcanici a prendersi questo pezzo qui in rosa, con le guerre balcaniche, l'ultimo pezzo europeo, diciamo, di una certa entità dell'Impero Ottomano, dopo esserselo preso a scannarsi tra di loro per spartire, solo ad aprire delle dinamiche che contribuiscono allo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Intanto, nel 1908 in Turchia c'è stato un colpo di Stato. Ci sono i giovani turchi. Chi sono questi giovani turchi? Chi sono dei giovani intellettuali, soprattutto dei giovani ufficiali, i quali sono andati a studiare all'estero, perché c'erano stati dei tentativi dell'Impero di modernizzarsi. E quindi, per modernizzarti, cosa fai? Beh, la prima cosa che tieni è l'esercito, quindi mandi i tuoi giovani ufficiali a studiare in Europa. E questi dicono, che bella è Europa, la modernità, la tecnica, la laicità dello Stato. E che cos'è che ha consentito tutto questo? Beh, il fatto che hanno fatto delle nazioni. Facciamole anche noi. 1908, fanno un colpo di Stato, rovesciano il sultano, o meglio, lo tengono lì come figura molto decorativa, e in realtà gestire il potere questa classe di ufficiali. E uno pensa, beh, sono arrivati i buoni, tra virgolette, i laici, i modernizzatori. E in realtà questi sono dei maledetti nazionalisti. Come fai a fare la nazione in un impero con un impero multinazionale, abitato da tanti popoli, con religioni diverse? Beh, dici, la nazione che conta è la nazione turca. E quando nel 1914 l'impero ottomano entra in guerra, e per i suoi legami economici con la Germania entra in guerra con gli imperi centrali, beh, questi giovani ufficiali pensano che la guerra sia l'occasione per farla finita con una popolazione che è di lingua diversa, gli armeni parlano in armeno, e di religione diversa rispetto al grosso delle popolazioni circostanti, perché sono cristiani. E dicono, questi qua si sono già ribellati diverse volte nel corso dell'Ottocento. Prima no, prima non c'erano problemi. Ma man mano che si diffonde da un lato la debolezza dell'impero, dall'altro lato l'idea facciamoci una nazione nostra, gli armeni hanno iniziato a ribellarsi. E quindi il regime dei giovani turchi, quando scoppia la prima guerra mondiale, si ritrova con gli inglesi che vengono su dall'Egitto verso la Palestina. che sono sbarcati anche in Iraq e cercano di avanzare dall'Iraq. E i russi che scendono dal Caucaso. E dicono, gli armeni possono fare la quinta colonna, possono aprire le porte ad un'invasione russa. E quindi ordinano. Il primo genocidio pianificato, perché genocidi ce n'era già stato quello dei tedeschi in Namibia contro la popolazione locale degli Errero, ma non era stato così pianificato. Qui è proprio un governo che manda dei telegrammi e dice, uccideteli tutti. Si va nei villaggi, nei quartieri armeni, si tirano fuori tutti gli uomini validi, vengono fucilati lì, le donne, i vecchi e i bambini vengono fatti marciare nel deserto, nel deserto della Siria, tant'è che le comunità armene in Siria oggi sono superstiti di quel genocidio, vengono fatti marciare fino alla morte. muoiono un milione, un milione e mezzo di armeni. È un'ecatombe. Ancora oggi non riconosciuta dal governo turco. E poi, nel contempo, mentre l'impero ottomano fa questa cosa qui, dello sterminio degli armeni, un giovane ufficiale inglese, tale Lawrence, viene mandato in Arabia, in quella che è l'attuale Arabia Saudita, ad incitare gli arabi a ribellarsi contro il sultano turco. E a capo di questa rivolta, uno che ha già dato segni di voler, quello che inizia questa rivolta, è lo Sheikh Hussein, protettore dei luoghi santi della Mecca. E gli inglesi decidono di puntare su di lui, perché se il sultano turco e anche il califo, il capo religioso dei musulmani, gli devi contrapporre un'altra identità religiosa, che è il protettore dei luoghi santi della Mecca e Medina. E comincia questa rivolta araba sostenuta dagli inglesi contro i turchi, che dà un bel aiuto agli inglesi in questa fase. E Lawrence, un po' credendo di fare gli interessi dell'impero britannico, un po' inventando solo lui per simpatia degli arabi, un po' perché effettivamente il governo britannico gli ha detto sì, sì, fai così, promette agli arabi che finita la guerra avranno un grande stato arabo legato all'impero britannico, ma comunque un grande stato arabo indipendente, che dovrebbe comprendere praticamente buona quasi tutto il Medio Oriente. Tutti i paesi arabi del Medio Oriente, sostanzialmente, cioè quindi Giordania, attuale Arabia Saudita, attuale Giordania, Siria, Iraq, Libano, Palestina. Un piccolo problema che nel 1916 il signor Sykes, plenipotenziario inglese, incontra il signor Picot, plenipotenziario francese, srotolano questa bella mappa del Medio Oriente che vedete alle mie spalle e tracciano una linea, questa qui, e dicono tutto ciò che c'è a sud della linea dove c'è la lettera B diventa protettorato inglese, tutto ciò che c'è a nord di quella linea diventa protettorato francese. E quella linea con una piccola correzione qui nel nord dell'Iraq è ancora oggi la linea divisoria tra la Siria e da un lato, Siria-Libano da un lato e dall'altro lato la Giordania e l'Iraq, dividendo popolazioni che avevano la stessa lingua, la stessa religione in molti casi, cioè introducendo dei confini completamente artificiali, altro che grande Stato arabo, tant'è che la propaganda dell'Isis punterà molto sull'idea del spazio, si faranno filmare quelli dell'Isis mentre abbandono coi bulldozer i posti di frontiera tra Siria e Iraq, perché appunto è una ferita nella carne viva ancora dopo più di un secolo questo accordo di Sykes-Picot in cui gli europei alle spalle delle popolazioni locali si dividono le aree di influenza, altra cosa si decide di favorire l'immigrazione ebraica in Palestina, il sionismo cioè l'idea di fondare uno stato ebraico in Palestina è ancora un piccolissimo movimento in quella fase ma c'è e questo non farà molto piacere agli arabi anche se in quella fase ancora gli ebrei le terre come dire se le comprano però se sei il contadino palestinese che viene mandato via da un campo perché il proprietario terriero ha venduto la terra agli ebrei che si vogliono stabilire lì comunque la cosa non la gradisci e poi Gerusalemme è comunque uno dei luoghi santi dell'Islam oltre che dell'ebraismo e del cristianesimo e cosa succede? che c'è questa spartizione del Medio Oriente tra inglesi e francesi che delude gli arabi poi vengono recuperati come dire i figli di Hussein gli inglesi si fanno perdonare dando ad uno il controllo sul regno di Giordania all'altro il regno dell'Iraq ma sostanzialmente sempre sotto il loro controllo sempre sotto il loro protettorato e poi c'è questo trattato di Sevret del 1920 che prevedeva che le coste della Turchia sarebbero andate alla Grecia una parte della Turchia sarebbe stato protettorato italiano ci sarebbe stato un grande stato armeno esteso fino all'interno avrebbero creato addirittura uno stato curdo ma uno stato curdo che sarebbe stato di fatto un protettorato misto tra inglesi e francesi contro questa idea di spartire una Turchia di spezzettarla di renderla uno stato completamente fantoccio si ribella l'unico generale invito dell'esercito ottomano che ha già sconfitto gli occidentali nella battaglia dei Dardanelli nel 1915 che è Mustafa Kemal Mustafa Kemal era come dire uno dei seguaci dei giovani turchi anche lui un laico modernizzatore il suo modello diciamo è Napoleone come visione politica che chiama alla guerra di liberazione nazionale contro soprattutto gli invasori greci che si sono presi le coste e gli vanno dietro e gli vanno dietro tutti gli vanno dietro come dire il turco medio che si sente invaso che si sente umiliato ma gli vanno dietro anche i curdi che dicono vabbè piuttosto se dobbiamo avere sì un nostro stato ma facendo i pagliacci degli occidentali che in realtà comanderebbero loro piuttosto andiamo dietro Mustafa Kemal che gli promette che quando avremo vinto faremo uno stato che sarà una repubblica turca che sarà lui dice in quella fase un'unica famiglia di turchi e curdi gli vanno dietro anche i primi comunisti turchi che la vedono come una lotta anticoloniale Mustafa Kemal riesce a cacciare i greci gli inglesi e i francesi se ne vanno anche perché l'Armenia intanto è diventata una repubblica sovietica quindi non hanno nessuna voglia di allargarla ai danni della Turchia capiscono che la Turchia non la controllano e quindi Mustafa Kemal crea la Turchia con i suoi attuali confini sanciti dal trattato di Lausanna del 1923 e sostanzialmente si impadronisce del potere e crea il proprio regime e a quel punto certo è un regime modernizzatore tanto per dire prima fino a quel momento avevano usato l'arabo come alfabeto Mustafa Kemal fa introdurre l'alfabeto latino è un occidentalizzatore per molti versi proibisce alle donne di portare il velo nei luoghi pubblici mette addirittura la religione sotto il controllo dello Stato proprio su modello napoleonico crea un ministero apposito che deve controllare la religione favorisce l'alfabetizzazione favorisce l'industrializzazione favorisce proprio per esempio spinge i turchi li obbliga a darsi dei cognomi e lui per se stesso sceglie il cognome di Atatürk padre dei turchi proprio su modello europeo piccolo problema è un ex militare quindi è un maledetto autoritario e soprattutto è un feroce nazionalista altro che unica famiglia di turchi e curdi i curdi vengono definiti turchi di montagna gli viene proibito di parlare la propria lingua gli viene proibito di insegnarla a scuola subiranno diversi genocidi e da allora in tutta la Turchia tutti i bambini anche i curdi devono la mattina a scuola scrivere sulla lavagna lo slogan di Mustafa Kemal fortunato chi può dirsi turco con i greci fa proprio una pulizia etnica li caccia dalla Turchia e tra il resto questo fa capire anche le contraddizioni del progetto politico di Atatürk tanto esaltato spesso in occidente ah perché è laico ma è davvero così laico cioè lui sì personalmente sì è morto di cirrosi epatica quindi era uno che beveva alcolici quindi di certo non era musulmano lui nella sua vita privata però però quando dice facciamo la nazione turca ebbè la nazione come diceva anche da noi Manzoni è una di lingua d'arme ed altari e l'altari lì è quello musulmano e quindi i greci che sono o meglio i cristiani di Turchia vengono espulsi negli anni venti in una vera e propria pulizia etnico-religiosa quindi i curdi vengono snazionalizzati c'è la pulizia etnico-religiosa della componente cristiana gli oppositori come i comunisti come il poeta Nazimikmet vengono o ammazzati o messi in galera Nazimikmet si farà 12 anni di carcere quindi c'è un regime molto duro che è quello di Ataturk mentre il resto del Medio Oriente continua ad essere spartito appunto tra Libano e Siria nelle mani dei francesi Iraq Giordania Egitto sotto controllo sotto protettorato inglese mentre l'Arabia Saudita ecco l'Arabia Saudita è interessante prendono il potere i Saud che sono portatori della visione più oltransista più fanatica dell'Islam sunnita ma diventano rapidamente i migliori amici di inglesi e americani perché? perché sono seduti sul petrolio e quindi fare affari con loro è molto conveniente quindi questa monarchia autocratica durissima pesissima diventa in realtà il miglior amico dell'Occidente e lo rimane tuttora ovviamente in questa zona vedete quelli alle mie spalle brevemente una mappa che fa vedere i giacimenti di petrolio e di gas naturale fa capire quanto è strategico questo territorio anche tutta la zona del Caucaso e fa capire anche il perché delle guerre e dell'instabilità e fa capire anche un'altra dinamica che in fondo abbiamo già visto in America Latina se tu vivi di materie prime soprattutto di materie prime che hanno avuto per decenni un alto valore come il petrolio tu non dipendi dal lavoro dei tuoi cittadini tu dipendi da questa materia prima quindi una volta arrivato al potere chiunque ebbè se controlla questa risorsa a quel punto ha lui in mani i cordoni della borsa vive di quella non vive dal lavoro dei suoi cittadini quindi può semplicemente pagare i tagliagole a cui mette una divisa per massacrare il suo stesso popolo e questo fa naturalmente divampare autoritarismo corruzione eccetera ed è una dinamica che bisogna sempre tenere presente dopo la seconda guerra mondiale gli europei non ce la fanno più a tenere gli imperi coloniali e se ne devono andare e nascono gli stati indipendenti e qui in buona parte di questi stati indipendenti sto parlando soprattutto dell'Iraq della Siria dell'Egitto poi della Libia con Gheddafi dal 1969 dagli anni 50 in poi abbiamo l'ascesa del nazionalismo pan-arabo cioè rivolto a tutti gli arabi questi si instaurano dei regimi che sono spesso dei regimi militari che fanno riferimento ad una comune appartenenza araba anche se il tentativo di creare un unico stato arabo fallirà perché poi ciascuno di questi generali che si impadronisce del potere si fa chiamare raiz capo nel proprio paese e un raiz non cederà mai il proprio territorio è un altro raiz quindi l'idea di mettere insieme questi diversi paesi fallisce però è un nazionalismo laico che vuole essere modernizzatore anticoloniale cioè che non vuole essere controllato dall'Occidente il caso simbolo è quello di Nasser Nasser in Egitto nel 1956 nazionalizza il canale di Suez questo passaggio strategico tra il Mediterraneo e il Mar Rosso costruito nell'Ottocento di proprietà di investitori privati inglesi e francesi ovviamente tutte le volte che passa una nave si fa pagare il pedaggio Nasser dice io ho bisogno di quei soldi del pedaggio per costruire una grande diga da Swan e quindi nazionalizza il canale di Suez lo fa occupare dalle sue truppe inglesi e francesi non gradiscono per nulla e imbadono l'Egitto con l'aiuto degli israeliani a quel punto però interviene l'Unione Sovietica dicendo come vi permettete maledetti imperialisti di attaccare il povero Egitto e a quel punto intervengono anche gli americani che prendono inglesi e francesi e israeliani e gli dicono ma Cicini ma voi volete che tutto il terzo mondo ci diventi comunista? No perché state facendo la mossa giusta per rendere l'Unione Sovietica la cosa più popolare in tutto il terzo mondo con questi vostri interventi non siamo più nell'Ottocento la politica delle caloniere è finita voi ora vi ritirate e il fatto che gli Stati Uniti facciano questo fa sì che l'Egitto rimanga in bilico e il regime di Nasseri in questa fase è popolarissimo perché la spunta perché riesce a tenere la nazionalizzazione del canale perché ha messo in crisi l'influenza degli occidentali degli europei sul Medio Oriente e tant'è che Nasseri in questa fase si può proprio permettere di esibire il suo nazionalismo laico pensate che ci sono delle trasmissioni tv dopo il 56 in cui Nasser va in televisione in Egitto e dice il capo dei fratelli musulmani che è questo partito islamista poi parleremo nella prossima lezione dell'islamismo perché in fondo questo sentimento di rivalsa che si afferma in Medio Oriente dopo il crollo dell'impero ottomano prende due strade o il nazionalismo ara laico quello turco di Ataturk o quello arabo di Nasser oppure la direzione opposta che è l'islamismo cioè la creazione di movimenti politici che dicono perché poi gli utilizzi politici della religione sono sempre discutibili dicono di rifarsi alla religione ecco Nasser può permettersi di andare in televisione e dire il capo dei fratelli musulmani è venuto a dirmi che dovrei fare una legge per imporre alle donne di portare il velo nei luoghi pubblici e gli ho risposto ma se quando vai in università non porta il velo neanche tua figlia e lì Nasser si mette a ridere e tutto il pubblico in studio ride ecco in questa fase di modernizzazione di nazionalismo laico l'idea che le donne dovessero per forza essere costrette a portare il velo nei luoghi pubblici in buona parte del mondo musulmano faceva ridere il velo era una libera scelta quando non era invece proibito quando invece la forma di imposizione non era un'altra quella laica come nella Turchia di Ataturk perché falliscono questi nazionalismi laici nel lungo periodo beh innanzitutto perché c'è il conflitto israelo-palestinese ne abbiamo già parlato le volte scorse è nato lo Stato di Israele l'ONU aveva proposto una spartizione della Palestina tra arabi e israeliani nessuno delle due parti accetta la cosa si arriva allo scontro tra gli stati arabi e il neonato Israele e Israele vince vince la guerra del 48 poi c'è la guerra del 56 nel 67 Israele si sente minacciato dagli stati arabi intorno gli attacca e gli sconfiggia nella guerra dei sei giorni una vittoria lampo nel 73 con la guerra dello Yom Kippur che farà schizzare alle stelle il prezzo del petrolio gli stati arabi cercano la rivincita ma non l'avrà ma sarà un mezzo pareggio e da allora in realtà Israele ha occupato sempre più territori Gaza e la Cisgiordani i territori palestinesi sono stati sempre più ridotti e questa umiliazione poi gli stati arabi usano anche in maniera molto propagandistica questa tragedia dei palestinesi perché poi quando i palestinesi scappano nei loro stati non è che li trattino propriamente bene ma soprattutto queste continue guerre con Israele tutte perdute di fatto hanno comportato delle enormi spese militari ecco si può dire che le due classi dirigenti laiche quella dei laburisti socialisti israeliani che sono laici anche loro e quella dei nazionalisti arabi laici facendosi la guerra si sono autodistrutte a vicenda comportando i loro popoli talmente tante sofferenze talmente tante spese l'Egitto a un certo punto spendeva il 40% del suo pilo in armi da favorire l'ascesa da un lato degli islamisti dall'altro della destra religiosa ebraica l'altra tragedia di cui parleremo di più la volta prossima è quella del popolo kurdo diviso tra quattro stati Turchia Siria Iraq Iran perché vedete per quanto la raccontino quella del nazionalismo in questi paesi è anch'esso una forzatura perché poi vedete questa è la mappa del Medio Oriente ogni popolo è un colore diverso in giallo gli arabi in marroncino i kurdi in verde i turchi e le popolazioni turcofane in arancione gli iraniani cioè i parlanti farsi insomma è una situazione etnicamente molto ma molto complessa che non è riconducibile ai nazionalismi poi nel 59 sarà nel 79 scusate 1979 lo vedremo la volta prossima sarà il momento della svolta religiosa in cui la religione tornerà a livello di massa nella vita politica di questi stati io come fonti vi consiglio storia del Medio Oriente contemporaneo di Massimo Campanini ci sono una bellissima 5 ore di lezione sulla storia dell'impero ottomano del professor Barbero su Youtube c'è il sito Gulf Project della Columbia University in cui ho tratto tutte le mappe e le infografiche ci sono diverse puntate del tempo e la storia appunto sulla storia di quest'area grazie buongiorno a tutti e a tutti